Torna in carcere Giuseppe Avignone, 79 anni, originario di Taurianova, considerato esponente dell'andrangheta e in particolare dell'omonima Cosca, condannato all'ergastolo, ma che beneficiava della semilibertà a Padova. Gli ufficiali di polizia giudiziaria della direzione investigativa antimafia e della squadra mobile l'hanno arrestato dopo la revoca della libertà condizionata, pronunciata il 21 novembre dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia. Avignone era stato condannato all'ergastolo per associazione mafiosa e omicidi plurimi nel 1977, con particolare riferimento all'omicidio di Domenico Monteleone avvenuto nel 76 e alla strage di Razzà avvenuta l'anno dopo. Dopo aver scontato gran parte della condanna a Padova aveva ottenuto la semilibertà. La strage di Razzà viene ricordata per la morte di due militari del nucleo radiomobile della compagnia di Taurianova, ovvero l'appuntato Stefano Condello e il sabbiniere Vincenzo Caruso. Era il primo aprile del 1977 e i due militari in servizio assistono involontariamente ad un summit d'indrangheta nelle campagne di Taurianova. Era un incontro delle più influenti famiglie della piana di Gioia Tauro. Le successive indagini della magistratura hanno messo in luce che l'incontro segreto stava servendo per definire e spartire gli affari delle organizzazioni criminali dell'area regina, i subappalti e l'imminente costruzione del quinto centro siderurgico di Gioia Tauro, le tangenti e gli investimenti immobiliari. A perdere la vita quel giorno non sono solo i due carabinieri. La famiglia Avignone, una delle più aggressive e influenti nella provincia di Reggio Calabria, subisce la perdita di due componenti Rocco Avignone, 35 anni, e suo nipote Vincenzo, 20 anni, sacrificatisi per consentire la fuga di altri evidentemente più potenti della stessa famiglia, in questo caso Giuseppe Avignone. Giuseppe Avignone ha violato più volte le prescrizioni della semilibertà nuovamente arrestato, l'ergastolano non potrà più accedere ai benefici analoghi.